Lei come giudica la posizione espressa ieri con una mozione in Parlamento contro il governatore della Banca d'Italia e se ha suggerimenti su nomi per il futuro? Ma io non ho nessuna meraviglia su quello che è successo perché è proprio della sinistra di voler occupare tutti i posti di potere subito dopo le elezioni. Adesso hanno fatto un passo avanti e vogliono occuparli anche prima delle elezioni. Grazie